Chi transita lungo la strada provinciale a Ponte Nossa ha sicuramente notato che in prossimità del campo sportivo c'è un piccolo cantiere. A lavoro ci sono gli uomini dell'antincendio Boschivo, cosa state realizzando? Stiamo cercando di realizzare e realizzeremo in modo molto efficiente la piazzola per l'elisocorso e per gli elicotteri che lavorano per l'antincendio Boschivo. È un'esigenza che da anni sentivamo, sia perché purtroppo nelle nostre zone frequentemente ci sono episodi che riguardano l'incendio Boschivo e anche perché in realtà nelle zone limitrofe non c'è effettivamente una zona dove l'elisocorso può atterrare in sicurezza. Quindi abbiamo deciso, con un enorme aiuto da parte del BIM che ci ha sostenuto, con qualche contributo che avevamo e soprattutto con Comunità Montana che ci ha concesso l'area e il Comune di Ponte Nossa che ci ha sostenuto, di realizzare quest'opera a nostro avviso molto importante per la comunità. Qui non ci sono cavi sospesi quindi anche per un elicottero l'atterraggio può ritenersi sicuro? Allora, l'atterraggio per un elicottero è sicuramente agevole, anche perché fino a questo momento gli elicotteri comunque atterravano in questa zona pur non avendo un riferimento fisso e molto visibile che è la piazzola. L'operazione degli elicotteri è sempre stata eseguita sostanzialmente su un prato, questo sarà un punto di riferimento per chi dovrà lavorare con un elicottero e sarà molto visibile e anche segnalata. Non avete pensato anche ad un potenziamento eventuale rendendola anche abilitata l'atterraggio notturno? Allora, questa è una situazione, in Italia il volo notturno con gli elicotteri per il momento mi sembra di aver capito che non è ancora previsto quindi come vedrete poi sul cantiere predisporremo delle tubazioni sotterranee che ci consentiranno in un futuro di renderla sicuramente illuminata e visibile anche dopo le efemeridi. Quindi avete anche pensato ad un'eventualità come questa? Abbiamo pensato ad un'eventualità e la stiamo predisponendo. Ovviamente i fondi che abbiamo in questo momento probabilmente non ci consentiranno di realizzare tutti i lavori, sarà un lavoro sviluppato a step che prevede comunque anche l'eventuale illuminazione regolamentare della piazzuola. Quindi è un intervento che ha una sua gradualità, immagino che sia difficile ora stabilire il costo complessivo però più o meno tentiamo di capire almeno che tipo di spesa è questa. Beh, diciamo che la semplice piattaforma con le predisposizioni le quali accennavo prima per l'illuminazione pensiamo di riuscire a gestirla nell'ordine asfaltata e poi verniciata secondo la normativa pensiamo di riuscire a gestirla contenendo i costi nell'ordine dei 15.000 euro, 13-15.000 euro in funzione dela. Poi ovviamente ci saranno altri step, ad esempio la recinzione esterna. stiamo prevedendo di fare una recinzione che non impatti con l'ambiente per cui avremmo deciso di farla in legno rispettando un po' l'estetica della ciclabile e quindi anche lì sarà uno step successivo che affronteremo. Accennavo prima all'illuminazione. L'illuminazione se deve essere fatta un'illuminazione della piazzuola rispettando la normativa ci sono degli apparecchi omologati che hanno un costo importante quindi anche lì è difficile andare a stimare a priori. Ci stiamo facendo fare un po' di preventivi e quindi andremo poi a valutare in funzione dei contributi e dell'impegno che potremo mettere anche noi come gruppo la miglior realizzazione possibile.